Doppio sbarco ieri nella Locride sono arrivati circa 200 migranti che portano il totale nell'ultimo anno a 2500 persone. La prima imbarcazione è stata intercettata a largo di Bovalino dove 78 immigrati tra cui 5 donne viaggiavano a bordo di una barca a vela di 13 metri diretti verso la costa della Locride. Ad avvistare l'imbarcazione è stato un pattugliatore della Guardia Costiera Rumena in servizio Frontex e poi una motovedetta della Guardia di Finanza del reparto Ernavale di Vibo Valencia. Gli immigrati sono stati intercettati, fatti trasbordare sulla motovedetta della Guardia di Finanza e poi trasportati al porto delle Grazie di Rocella Ionica dove è iniziata la solita procedura di riconoscimento e poi successivamente il tampone anti-Covid. A distanza di poche ore nel pomeriggio sono stati 109 gli altri immigrati tratti in salvo a 45 miglia da punta stilo dalla motovedetta CP 328 della Guardia Costiera di Rocella Ionica coordinata dal comandante e il tenente di Vascello Tommaso D'Alpino. I migranti viaggiavano a bordo di una barca a vela lunga 16 metri che ha chiesto soccorso in tarda mattinata. Si tratta tutti di soggetti di nazionalità irachena e iraniana. I profughi sono stati trasportati al porto delle Grazie e poi però dopo le operazioni di riconoscimento e di tampone trasferiti al palazzetto e allo sport di Rocella poiché il centro di primo soccorso era già occupato con lo sbarco di ieri mattina. Insomma una situazione che sta diventando difficile anche nella Locride 200 persone in un giorno sommando gli sbarchi rendono complicato ogni tipo di accoglienza degna comunque di persone civili. Esausti gli equipaggi delle varie imbarcazioni ma anche le forze dell'ordine che hanno avuto non poche difficoltà per la gestione dei pochi uomini e mezzi in un momento in cui si è impegnati su molti fronti.